ecco siamo nell'area parcheggi dell'aeroporto di bologna ecco qui vediamo la monorotaglia che arriva dalla stazione questa è tutta la zona parcheggi che si trova proprio qui attaccato all'aeroporto ecco l'ingresso della monorotaglia verso la stazione ecco qui vediamo l'area di arrivo della stazione e il parcheggio dei taxi ecco siamo arrivati all'ingresso dell'aeroporto da quest'altra parte abbiamo poi l'ingresso invece per andare alla stazione ecco qui siamo ai banchi di accettazione ecco qui ecco qui ecco qui ecco qui ecco qui ecco qui siamo all'ingresso del marconi express che porta poi alla stazione ferroviaria ecco qui ecco qui siamo all'ingresso del marconi express questa è la zona della biglietteria ecco qui ecco qui Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.